I partiti e le liste civiche all'opposizione chiedono a gran voce la convocazione del Consiglio Comunale. Chiedono a Giorgio Del Ghingo di venire in Consiglio Comunale e di farsi sentire. È da prima di Natale e sono due mesi e mezzo che il Consiglio Comunale di Viareggio non si riunisce. Tutto questo è inamissibile due mesi e mezzo in una città di 64 mila abitanti, in una città nella quale si sta svolgendo una manifestazione internazionale come il Carnevale di Viareggio. Il Consiglio Comunale non si riunisce più. Vogliamo il Consiglio Comunale, vogliamo sentire dalla viva voce del Sindaco che cosa sta accadendo e come sta gestendo la città. Vogliamo sapere dei lavori al rilento della terrazza della Repubblica, del bando di Piazza Cavour che rallenta. Vogliamo sapere della fine del palazzetto dello sport, di tutti gli altri impianti sportivi chiusi. Ma vogliamo sapere soprattutto dalla sua viva voce si candida a Lucca o no? O il Sindaco di Viareggio vuole rimanere a Viareggio per amministrarla dato che è stato eletto nel settembre 2020?